Ma dove vanno i cremonesi in vacanza nelle prossime festività? Già dalle più imminenti, quelle del Ponte dell'Immacolata. Stando uno studio recentemente condotto da FIAVET Lombardia, preferiscono i viaggi organizzati e come mete puntano a Roma, Firenze e Trentino per chi sceglie l'Italia. Caraibi, Maldive, Londra, Vienna, Berlino e Madrid per chi invece punti all'estero. In Italia prevale la passione per l'arte e fuori confine il mare. A viaggiare sono per lo più le coppie, sposati e fidanzati. Quello dei viaggi è comunque un settore in riprese, servizi turistici e tour operator sono 2.410 in Lombardia, 15.697 in Italia. A Cremona sono 52, due in meno dell'anno scorso con una flessione del 3,7%. Meno ne hanno solo Lecco e Sondrio, 49, e Lodi, 29. Molto meglio la vicina Mandova con 86 agenzie.